Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi, quest'oggi bisogna continuare con il calciomercato quest'oggi con ogni probabilità dovrebbe partire Zereveri e quindi dovrebbero arrivare un po' di acquisti importanti dovrebbero arrivare soprattutto tanti soldi e quindi si potrebbe fare effettivamente una puntata tutta incentrata sul calciomercato Nella scorsa puntata è partito Boss quindi adesso ci manca anche un nuovo trezzino sinistro al posto di Boss appunto infatti adesso abbiamo Raum come titolare e nessun altro poi nella scorsa puntata è arrivato anche Kivior abbiamo venduto Ato e Breddili nella puntata prima ancora se non sbaglio comunque ci siamo mossi abbastanza bene abbiamo fatto anche la prima partita con la Lazio che è stata comunque molto importante detto ciò ragazzi possiamo andare avanti ma prima come sempre vi invito a lasciare un mi piace riscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità a seguirmi sulla pagina Instagram e sostenere il canale tramite un abbonamento ed una donazione quindi raga possiamo andare avanti spero che arrivi molto in fretta la cessione di Zerimeri bastava chiedere eccolo qui che vola alla fine che ha scelto l'Inter non ha scelto il Manchester United ha scelto l'Inter che in pratica è la squadra che aveva anche offerto di più 95 milioni rispetto ai 90 degli inglesi 96 milioni di punto 3 l'offerta massima secondo il gioco quindi siamo stati veramente bravissimi e adesso ragazzi si fanno le follie perché sì certo come sempre tutto sotto controllo non si preoccupi come sempre ragazzi adesso dovrebbe essere arrivato un quantitativo di soldi abbastanza importante infatti 93 milioni e mezzo che sono tanti tanti e andiamo anche subito a spendere perché allora innanzitutto vabbè importa come sempre siamo a posto se esce alla fine un terzo portiere tra gli svincolati giusto per il numero va bene ma secondo me si può aspettare di trovare un portiere giovanissimo non pentiamo in prima squadra vediamo ragazzi non è alla fine importante comunque Raum è tutto solo potrebbe arrivare Kristiansen tipo subito poi in difesa Biol, Teate, Kivior, Joró che deve partire dovrebbe andare al Fenerbahce quindi 10 milioni in più che dovrebbero entrare Kivior è stato preso per essere sostituto di Teate dovrà poi arrivare un rimpiazzo per Joró che potrebbe essere o a Mezzovic o a Kossonum diciamo abbiamo visto questi due profili come più interessanti manca un nuovo destino destro che proverò a prendere Jandrei potrebbe essere Jandrei vediamo un attimo poi ci manca sempre la riserva di Pobega ma io voglio aspettare il resoconto per Pras in questo caso nella speranza che possa arrivare poi si potrebbe teoricamente vendere anche Klassian per prendere un altro centrocampista anche dal piede destro che potrebbe essere o Elliot Anderson o Biotic vediamo stessa cosa con Pafundi il C o C più accreditato è Ryder oppure Fujimoto vediamo un attimo come sempre sulla sinistra stesso discorso lungo potrebbe andare in prestito però in questo caso mi ispira molto Barrenecea o Paxao anche qui bisogna aspettare i resoconti sulla destra e per le punte stiamo a posto diciamo ho fatto anche un mini resoconto voglio vedere un attimo le osservazioni a che punto stanno perché ragazzi sta anche per finire il calciomercato a 9 giorni ecco con Paxao forse potrebbe essere più difficile vedo tanti un giorno anche anche Pras è un giorno questa cosa è molto positiva devo devo vedere però il calendario qui e vedere che un uno anzi due tre quattro cinque sei giorni ragazzi quindi alcuni resoconti non potranno arrivare vediamo un attimo ragazzi abbiamo così tanti nomi che sicuramente si può scegliere quindi andiamo ad intervenire sul mercato abbiamo dei ruoli scoperti andiamo a coprirli tra virgolette quindi hub mercato iniziamo dal terzino destro quindi proviamo con Gendrey perché noi abbiamo detto di voler provare a prendere come prima scelta diciamo Gendrey oppure un altro interessante è Caboré perché ha il prezzo bloccadissimo però ci sarebbe il problema dello stipendio invece il problema che non si pone con Gendrey quindi andiamo a contattare il Lecce allora provo a partire basso provo a fare 17 milioni vediamo che dicono 24 e 3 va benissimo io farei 18 e mezzo visto che vale 18 milioni quindi dovrebbe andare bene 22 stanno scendendo facciamo 19 io vorrei chiudere sui 19 e mezzo sinceramente però facciamo prima 19 avanziamo l'offerta accettato va benissimo 19 milioni è un'ottima cifra considerando che ne vale 18 ricordiamoci che è anche un sostituto quindi viene per dare il cambio a Zanoli ragazzi ultimamente negli ultimi video ho visto anche qualche perplessità diciamo sul fatto di prendere dei giocatori che poi visto che sono comunque importanti potrebbero lamentarsi però ragazzi non è sempre vero perché per esempio per adesso Gendry vuole fare turn over anche Kiyo se non sbaglio voleva fare turn over a massimo importante però se io faccio tutto questo non mi preoccupo molto che i giocatori si possano lamentare perché perché appunto dovrebbero giocare tutti cioè il mio obiettivo è avere dei giocatori forti e farli giocare tutti chiaramente stipendio veramente basso mi piace tanto tanto sta cosa ma sai che potrei accettare però visto che a me piace anzi no in questo caso facciamo facciamo così voglio completamente togliere il bonus e voglio darti solamente 18.000 euro a settimana che mi rispondi che va bene perfetto ragazzi con Gendry è andato tutto liscio ovviamente bella anche per lui 18,2 lì sta scritto 19 milioni ci può stare adesso ragazzi con questa bella penna vado a cancellare tra ricolette il terzino destro nel senso che l'ho preso il giocatore anche Kivior qui lo posso eliminare per il difensore centrale di piede destro dobbiamo aspettare la partenza di Yorou a titolo definitivo a sinistra invece possiamo intervenire perché ci manca ho sbagliato ci manca il terzino sinistro sostituto di Raum che è appena arrivato abbiamo visto che Kristiansen qualità prezzo dovrebbe essere il profilo migliore tra pari direzini sinistre non è mai semplice come quando trovi direzini destri nel senso che essendo mancini c'è meno scelta forse vabbè comunque alla fine sì Kristiansen è quello che mi ispira di più se lo trovo Miranda comunque molto interessante però abbiamo già preso Raum come giocatore principale Marzio è un 79 ma supera i 20 milioni il mio obiettivo è spendere meno di 20 milioni per questi sostituti e quindi Kristiansen potrebbe essere ottimo per sotto ogni punto di vista per realismo per qualità prezzo appunto ragazzi un giocatore forte viene dal laser secondo me ragazzi lui come riserva va benissimo mi ispira perché guardare qua ha delle statistiche fisiche veramente impressionanti comunque contattiamo il laser qua addirittura voglio spendere sui 13 milioni e quindi ragazzi io parto da 12 e mezzo secondo me è un ottimo inizio 12 milioni e mezzo 17 e mezzo va bene va bene 13 e mezzo quanto vale in realtà posso fare anche 13 cifra tonda secondo me questi accettano 17 e 5 sono fermi quindi facciamo 13 e mezzo che mi dici che hanno bisogno di un po' di tempo per riflettere e io sono disposto a concedervi questo tempo anche perché anche perché voglio fare un altro periodo di cose ovvero andare avanti giusto di quel giorno anche per aspettare questi resoconti qua molto molto importanti accettata l'offerta per Cristian perfetto Pras è fondamentale sapere che Pras è un 79 e che costa 28 milioni e 2 ok pensavo costasse qualcosa nemmeno sinceramente perché ricordavo avesse un prezzo molto bloccato mi sbagliavo comunque ragazzi comunque andiamo un attimo per ruolo perché allora innanzitutto andiamoci a prendere Cristian insieme quindi andiamo a trattare il contratto con il giocatore che dovrebbe avere uno stipendio anche lui assolutamente nella norma turnover benissimo ragazzi 4 anni di contratto possiamo fare anche 5 a solo 22 anni quindi anche molto giovane ignora la clasola recissore lo stipendio lo scelgo io io ti do 25 mila euro secondo me mi accetta così senza problemi e infatti offerta eco immaginavo mi dà la sensazione che quest'anno quest'anno intendo proprio questa stagione con l'Udinese posso effettivamente dare degli stipendi molto a ripasso comunque vabbè vediamo un po' una bella anche in questo caso 13.1 va bene va bene e adesso appunto vediamo un attimo qua per ruolo e andiamo a cercare un nuovo centrocampista centrale che deve fare da riserva a Pobega le scelte sono fondamentalmente 3 allora la prima che voglio vedere la prima scelta che voglio controllare è O'Reilly che dovrebbe essere chiaramente sempre al Celtic anche in questo caso non vorrei spendere troppo però per il terzino sinistro speso meno di 15 milioni addirittura vediamo un attimo ragazzi innanzitutto fatemi cercare di trovare il buon vecchio O'Reilly eccoli qua è a prezzo bloccatissimo lui però è in 81 è forte ha uno stipendio alto vediamo Yusuf eccolo qua Yusuf molto interessante ragazzi lui è un centrocampista che in passato ho già provato ma tipo tanti anni fa e era un giocatore forte si faceva sentire là in mezzo secondo me si potrebbe fare deve fare il sostituto di Pobega è un 79 secondo me c'è il stesso overall di Pras due anni più grande sicuramente però per quello che deve fare secondo me è perfetto quindi io vado a contattare il Farmalisao perché secondo me lui è profilo giusto anche questo è realistico perché appunto arriva dal Farmalisao lui dovrebbe giocare tipo a Saint-Étienne in Francia comunque prova a partire addirittura da 15 milioni di euro 19.4 molto bene facciamo 16 ecco qui 16 milioni no non va bene ma anche in questo caso ma 16 e mezzo sicuramente mi dirà di sì e infatti è accettato 16 milioni e mezzo praticamente quello che stava scritto lì quindi va benissimo anche qui al di sotto dei 20 milioni peccato per Pras però ragazzi come sempre non voglio spendere troppo secondo me arriveremo sempre a un punto dove i soldi dove arriveremo a dire che ci mancano dei soldi quindi andiamo a prendere un giocatore come Yusuf secondo me perfetto 4 anni di contratto per te ok nessuna clausula recissoria e lo stipendio che lui se lo alza un pochino ci posso stare però voglio fare voglio fare 25 mila però ti do un bonus molto molto più basso qua tipo 50 mila secondo me potrebbe e dovrebbe accettare infatti va benissimo preso anche presa anche la riserva di Yusuf e adesso c'è la riserva di Pobego vedo Yusuf ottimo acquisto secondo me sono soddisfatto soprattutto per l'overall e poi ha delle ottime statistiche quindi non ci sono problemi abbiamo speso poco addirittura un milioncino in meno ma mi hanno rifiutato quindi non so che dirvi e adesso ragazzi adesso ma mi chiedo io per Barrenecea si sa qualcosa in più fatemi vedere Franca Bagagliocono 80 Pikesau 6 giorni peccato Gluck ragazzi Gluck pure mi interessa un po' fatemi vedere non costa tanto ragazzi lui potrebbe essere molto interessante me lo devo segnare come Coc perché appunto un nuovo nome ci può sempre tornare utile poi ragazzi ci manca poco quindi magari non è lo stesso video ma sicuramente andrò a registrare ora il finale del calciomercato comunque appunto voglio vedere un'altra cosina allora innanzitutto voglio segnare Cristensen Yoro ancora deve partire fatemi vedere offerte ricevute Yoro stanno ancora trattando con il Fenerbahce ci vogliamo muovere quindi Kivio qui l'ho tolto il terzino a posto preso anche il centrocampista centrale di piede sinistro e ok ragazzi fatemi vedere però Barrenecea Barrenecea si sa qualcosa in più sarei molto molto curioso di sapere quanto è di overall Barrenecea Wimmer addirittura 182 vediamo se c'è no 6 giorni peccato ragazzi mi interessava però costa 26.5 milioni scusatemi un attimo mi dice già se posso effettivamente no devo aspettare non abbiamo abbastanza informazioni non vi preoccupate che un modo comunque si trova a parte che poi dovrei anche vendere gli altri quindi cosa in più Yoro finalmente parte posso provare a prendere il nuovo difensore centrale un altro per rinforzare anche al medio quel reparto adesso abbiamo tutta la difesa migliorata ottimo affare con Yoro secondo me vediamo un attimo se c'è qualche offerta nuova prestito per lungo molto bene offerta per Pafundi eh ragazzi Pafundi effettivamente si può pensare di venderlo dall'inizio non ha più diciamo mostra un ottimo potenziale ottima promessa queste cose qua quindi anche in questo caso si può azzare il livello uno secondo me fra Samazic e Pafundi andava sacrificato quest'anno perché altrimenti ci ritrovavamo ad avere due COC con il prezzo bloccato quindi Pafundi Nottingham Forest ovviamente ragazzi proverò a venderlo nel miglior modo possibile che visto che anche scadenza nel suo caso tipo 15 milioni anche 14 andrebbero benissimo quindi proviamo questi 15 milioni di euro 13.1 non male 14.5 vediamo vediamo ovviamente ragazzi si potrebbe incassare di più da lui ma non gli ho rinnovato il contratto 14.5 no sono femmine a 13.2 a questo punto facciamo 14 almeno per guadagnarci un pochino in più vediamo rifiutano ma mi sembra eccessivo speriamo a questo punto che arrivi un'altra offerta invece lungo prestito al Torino non male delego perché si è buggato prestito un anno prestito un anno ok si può fare speriamo di sì uh ragazzi attenzione 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 offerta anche per Samaric l'Aston Villa anche lui è mezzo in scadenza lui quest'anno non vorrei venderlo vorrei rinnovargli il contratto cosa che potrebbe fare a prescindere sia per Pafundi che per Samaric così le offerte dovrebbero essere un po' più costose però poi non sarebbe facile secondo me vediamo un attimo ragazzi vediamo con calma perché questi giorni sono molto molto importanti comunque vediamo un attimo i soldi che abbiamo attualmente ci sono i soldi assolutamente per rinnovare i contratti sia a Pafundi che a Samaric quindi finanze vediamo un attimo chi è effettivamente in scadenza Samaric Gerard Delefeu da rinnovare assolutamente ha uno stipendio bassissimo anche Silvestre e Pafundi quindi fatemi provare un attimo trattativa a contratto vediamo un po' che succede vuole essere importante manco cruciale non male rinnoviamo a 5 anni non si può mai sapere ignora la clausola di scissore lo stipendio lo fa scegliere a me io deduco che lui comunque sui 25.000 vada benissimo quindi proviamo a fare 25.000 offerta equa perfetto rinnovo molto importante poi cerchiamo di fare la stessa cosa anche per Pafundi lui prende 750 euro quindi prende poco a meno a 10.000 ci dovrebbe arrivare secondo me per fare una cosa sensata vuole essere addirittura sporadico diciamo che crede poco in se stesso Simone Pafundi 5 anni di contratto gli mando bene ignora la clausola lo stipendio ma lo dice lui vuole veramente veramente poco io a meno 5.000 te li voglio dare perché altrimenti mi sento in colpa quindi 5.000 euro a settimana avanziamo l'offerta dovrebbe assolutamente accettare infatti 5.000 euro rinnovato anche lui già che ci troviamo ragazzi proviamo a fare la trattativa anche per delle feo silvestri perché entrambi comunque li voglio rinnovare anche se hanno più di 30 anni delle feo manca a dirlo è cruciale lui mi aspetto che chieda anche sui 40.000 sinceramente 3 anni di contratto che per un 31enne vanno benissimo lo stipendio lo fa scegliere a me allora io vorrei fare come ho fatto con tutti quindi 35.000 2.500 vediamo se funziona anche in questo caso ma ne dubito noi invece offerta equa va benissimo stipendio che ci sta alla grande e a suo punto ragazzi chiudiamo anche con silvestri poi andiamo avanti gli ultimi giorni arriviamo alla partita contro il milano per poi giocarla nella prossima puntata e ci faremo anche l'ultimo giorno di calcio un mercato che secondo me sarà anche bello intenso bello importante appunto come vuole essere silvestri per noi importante ecco diciamo in questo caso forse era meglio turnover comunque vabbè lui al massimo l'anno prossimo si può pensare di venderlo per l'età infatti chiede solamente un anno in più nessuno che va sulle rescissorie lo stipende lo fa scegliere a me ecco anche lui tra l'altro prende 14.90 strano a lui vorrei dare 25.000 la facciamo anche 20.000 però ti do un piccolo bonus piccolo bonus 100.000 di bonus vediamo che dice vediamo che dice offerte equa va benissimo ho sempre paura ma quest'anno il gioco mi sta dimostrando che non devo avere paura comunque hub mercato rieccoci qui allora offerte ricevute per samaz c'è cambiato qualcosa no si è interrotta perché gli ho rinnovato il contratto bene funziona così quindi non la sapevo sta cosa comunque vabbè non volevo vendere samazic nel caso avessi rinnovato il contratto prima l'offerta sarebbe stata differente comunque vabbè ragazzi non c'è problema ecco forse adesso non potrò vendere manco pafundi secondo questa logica però sul mercato c'è quindi è sul mercato comunque lungo lo vuole anche il getafe io sarei disposto ad accettare un anno di prestito per il getafe sia un anno di prestito assolutamente quindi potevo già accettare vabbè non fa niente invece classe non lo vuole il monje glabach molto interessante vi ricordo che lui lo prendemmo a zero l'anno scorso quindi non dovrebbe essere un problema 32 anni 7.2 7.3 potrebbe costare molto di più secondo me io azzardo addirittura un 9.5 vediamo vediamo che ci rispondono i tedeschi sono freni a 7.2 ma la tensione sale veramente ma veramente di poco quindi io ripropongo la stessa cifra che questa volta viene accettata 9.5 per Pafundi non mi dispiace sostituto anche in questo caso dovrebbe venire via meno di 20 milioni però ragazzi ce la faremo perché innanzitutto a vendere tutti che non è una cosa scontata comunque andiamo avanti l'ultimo giorno per vedere se cambia qualcosa no non cambia nulla no un'offerta arriva si Pafundi che vuole giocare che non ha manco senso perché c o c teoricamente vabbè ci facciamo casa offerta per ancora per classe e ne arriva il Braga rifacciamo la stessa cosa stavolta ti vado a chiedere addirittura 10 milioni così eventualmente possiamo scegliere a lui quindi 10 milioncini così vai vediamo che dicono 8.5 non male a sto punto 9.5 pure con voi così sceglie lui no a meno assolutamente non posso accettare 9.5 secondo me accettano adesso e infatti lo sapevo quindi ragazzi direi che per oggi possiamo fermarci qua nella prossima puntata grandi manovre perché dovremmo affrontare innanzitutto il Milan una partita complicatissima tra l'altro fatemi vedere se la squadra si è ripresa si sono riposati meno male tra l'altro ragazzi Di Gregorio Biol Teate Zanoli Rampo Vega Vega Samadzic ok ci sono tutti con un lungo che è diventato anche un 75 Yusuf e Cristensen in panchina Jean André molto bene ragazzi sono contento mettiamo Jean André qua scusate Yusuf qua Jean André qui Bafundi come COC attualmente almeno healing è lungo che rimane qua ma lui dovrebbe andare in presso e quindi un barrene c'è un Pikesau si potrebbero tentare diciamo si potrebbe tentare l'acquisto Cristensen e Kiver anche loro volti nuovi sicuramente adesso il gioco se lo prenderà con noi che devono giocare tutti inizialmente perché devono fare l'esodio dei sogni comunque ragazzi noi come sempre cercheremo di fare il massimo in questi casi quindi io direi che per oggi posso fermarmi qui come sempre vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale a seguirmi sulla pagina Instagram a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti